Una voce notissima del trono over di Uomini e Donne rompe il silenzio e salta in difesa di Tina Cipollari, una delle opinioniste più iconiche del programma. Ma aspettate, perché questo potrebbe solo essere l'inizio di una situazione ben più intrigante che sta per esplodere. Scopriamo tutto. Nelle ultime settimane, il mondo dei pettegolezzi si è acceso intorno a Tina Cipollari. Tra rumor, attacchi e una possibile decisione drastica da parte di Pier Silvio Berlusconi, il caos è servito. Da una parte, Giorgio Manetti lancia bombe contro Tina, dall'altra arriva una difesa inaspettata. L'ex cavaliere Alessandro Sposito, noto per la sua presenza nel programma, si è schierato con Tina, nonostante i loro precedenti screzzi. Tina fa bene il suo lavoro, disturba parecchio, ha dichiarato a TAG24. Un endorsement che potrebbe sembrare normale, ma che invece nasconde una verità. E ora, la rivelazione shock che tutti stavate aspettando, nonostante le voci di corridoio e gli attacchi pungenti da parte di Manetti. Sembra che Tina non abbia mai avuto intenzione di lasciare lo show di Canale 5. Anzi, ha categoricamente negato di essere stata contattata da Mediaset e ha rivelato di non aver mai avuto il piacere di conoscerlo. Riguardo al suo presunto addio, ecco cosa ha dichiarato tramite Instagram. Buongiorno a tutti, stanca e annoiata. Purtroppo per loro, anche quest'anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più, sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti e un caro saluto a Pier Silvio. Nel frattempo, la situazione si infiamma ulteriormente con Manetti che continua a sperare nell'addio di Tina, usando parole poco gentili e tirando fuori segreti dall'armadio. Ma la donna non si lascia abbattere, sgancia una bomba sull'ex di Gemma Gaigani e ribadisce la sua posizione nel dating show. Cosa accadrà ora nello studio di Uomini e Donne? La tensione sale e le sorprese non sono ancora finite. Restate sintonizzati e iscrivetevi per ulteriori aggiornamenti su questo scottante argomento di gossip. Alla prossima!